Ciao a tutti! La nostra attività sta crescendo in molti, molti posti. Oggi stiamo lavorando in quattro continenti e abbiamo diamanti e oltre in queste quattro continenti e in differenti nazioni di diamanti e oltre. E quest'anno saranno nove, perché le Filippine stanno esplodendo, quindi l'attività va bene. Io sarò specifico proprio per quanto riguarda l'Italia più tardi. Per me questo è l'incontro più importante che faremo di training in questo viaggio. Più importante di quello che sarà il trentesimo anniversario. Sarà sicuramente divertente quello, ma oggi lavoreremo in maniera approfondita per vedere gli aspetti dell'attività. Noi stiamo cercando le persone che sono serie per costruire questa attività e di costruirla rapidamente. Quindi prestate tanta attenzione perché io oggi spiegherò come si fa questo e poi voi decidete se siete pronti di fare le cose necessarie per avere il grande successo che è possibile avere. Prima di cominciare voglio dare il benvenuto ai nostri amici di Firenze. Abbiamo questo super diamante, Michele Tarulli. Per coloro che non sanno, Michele e sua moglie Federica hanno ricevuto un super bonus così nell'ultimo anno e credo che fosse 300.000 euro giusto sì, 300.000 euro di super bonus un bonus extra è un po' interessante per voi questo e Michele ha portato in sé Giacomo e Damiano in the back working the machine e Michele ha portato in sé Giacomo e Damiano che stanno lavorando e Michele tutte e tre erano con noi a Capri un benvenuto speciale anche alle persone della Romania sono venuti sabato per essere qui a questo incontro oggi ci sono tante persone che sono veramente molto seri di quanto la persona è questa attiva quindi alzate le mani ragazzi della Romania e diamo anche il benvenuto al nostro top leader e anche lui ha portato delle persone dall'Inghilterra con sé e un saluto speciale ai nostri amici di Cremona collegati online con questo cominceremo e comincerò con una presentazione del powerpoint voglio che vediate senta subito le possibilità che ci sono in questa attività si possono abbassare le luci per favore? tutti gli anni Amway offre dei viaggi gratis come incentivo questi viaggi sono appunto gratis e sono per le persone per i posti straordinari nei prossimi anni ci sarà il viaggio gratis LTS in Antalya, Turchia un bellissimo resort ci sono già stato a Barcellona in Spagna una delle mie città preferite e poi a Marrakesh in Marocco tutto gratis per due persone nei prossimi due anni più tutti gli altri bonus di cui parlavamo prima questo cominciamo questo chiaramente è stato qualche giorno fa ho lavorato duramente questa mattina per fare questo powerpoint eccoci qui che stiamo andando a Capri sul traghetto vedete alcuni scenari alcuni paesaggi questo è la nostra suite al qui si sa il miglior albergo di Capri molto elegante questa è la vista dalla nostra suite c'erano 180 persone lì tutti i nuovi produttori argento degli ultimi mesi e platini che stanno crescendo nell'attività 180 del nostro gruppo e l'anno prossimo si raddoppierà questo questi sono appunto paesaggi di Capri ed ecco l'incontro stavo parlando appunto ai 180 partecipanti anche Barbara ed ecco una presentazione e una spiegazione di che sentirete voi dopo questo è un canselling con le persone di Bologna qualcuno di voi magari conoscerà Paola Vampa e Raffaele vi voglio raccontare una storia questa sono andata alla Grotta Azzurra e vedrete delle foto tra poco e hanno conosciuto una coppia di Roma tra l'altro e si sono inizi a chiacchierare e queste persone parlavano e hanno una vita molto aggiatta a nome delle grandi attività quindi Paola dice a loro dove state alloggiando a Capri? e loro hanno risposto l'hotel Florida ok e loro giustamente hanno richiesto a Paola tu invece dove alloggi? e lei ha detto il quisisana ecco Gianni e Maria Gianni l'ha detto con la barba c'è bisogno della him bellissime scene questo è il ristorante più famoso di Capri da Paolino c'erano i musicisti che andavano in giro per i cavoli il cibo è sprepitoso questa è stata la cena di gala l'ultima sera guardate che bello sfondo meglio di così non si può avere ecco alcuni dei nostri leader due di loro dalla Sicilia e ovviamente Gianni e Maria altri bei paesaggi di Capri ah here's the blue grotto the green grotto ok quella è la grotta verde questa è la grotta azzurra ci siete mai stati alla grotta azzurra qualcuno che era stata di mano ti portano dentro con la barchetta e cantano le canzoni questo è ancora di nuovo Michele e Federica ecco la moglie e il loro figlio Francesco e aveva questa sciarfa sognate in grande amici miei ciao a Capri arrivederci a Capri e adesso qualche altra foto da Bangkok è stato come potete vedere dalla data un paio di settimane fa eccoci lì nel bergo fantastico questo è il nostro trasporto privato vedete il nostro figlio Tom lì questo è il diamond tip della Thailandia e il triplo diamante Supat probabilmente la persona più famosa dell'Asia della nostra attività ovviamente ecco il nostro seminario questo è invece il weekend seminar italiano lo scorso weekend giusto? 6-7 mila persone in Italia del nostro gruppo adesso di nuovo a Bangkok tutte queste persone che vedete sono a livello di platino e oltre sapete quanto guadagna un platino no? i bonus, i viaggi eccetera ecco lì questi sono i nostri diamanti e smeraldi questo è un diamante sta facendo finta di essere Elvis Presley c'erano varie nazioni rappresentate a questo seminario era un seminario di leadership quindi per essere presenti dovevano essere almeno leader club ogni mercato o ogni nazione ha fatto una presentazione sul palco solo per divertimento e questo ragazzo il suo nome è Pisanou è un po' pazzarello proprio come lo siamo tutti avete mai visto una foto di uno che vola sul palco? è lui, è Pisanou ma è adesso Elvis Presley e crederci oppure no queste donne sono platini nella sua linea di sponsorizzazione ecco si vedono meglio qui queste ragazze incredibile e lui era pure bravo e anche loro e adesso è nostro figlio Tom ecco Sopat e questo ragazzo ha 32 anni è del Vietnam ed è un diamante e si stanno esibendo sul palco e si divertono sognare sempre in grande abbiamo finito vi ho voluto far vedere questo per darvi un'idea del vostro futuro questi viaggi ci sono anno dopo anno ci sono persone qui in Italia che vanno a questi viaggi da oltre vent'anni un grande stile di vita e stiamo cercando altre persone che vogliono questo stile di vita in Italia abbiamo l'organizzazione che cresce più velocemente di tutta l'Europa questo ce l'ha detto Fabrizio Soria il manager di Amway Italia il rapporto di crescita in Italia è da 10 a 12% da vari anni ormai l'azienda ha un obiettivo di raddoppiare in Europa l'attività nei prossimi 10 anni che cosa significa questo? sono molti anni che siamo in Europa in attività 40 anni e in 10 anni tutto il successo avvenuto in 40 anni si ricreerà in 10 anni in Italia il ritmo di crescita è diverso se continua così personalmente io penso che crescerà anche di più ma se rimane questo ritmo di crescita l'attività raddoppierà nei prossimi 7 anni in 7 anni noi ricreeremo il successo creato in 30 anni è un momento veramente molto entusiasmante di essere in attività quando parlo in un programma al 30esimo anniversario avrò ancora più informazioni su questo ma voglio che sappiate ciò che avete nelle vostre mani e adesso si comincia il training parleremo di varie cose oggi e cominciamo con quello che io chiamo il flusso parleremo del piano in 5 minuti parleremo di avere momentum nella nostra organizzazione e parleremo di come costruire la profondità e quindi cominciamo con il flusso sapete che cosa significa? anni fa quando i miei figli erano ragazzi giovani andavamo al fiume quando cominciava a sciogliersi da nere i fiumi scorrevano velocemente ci mettevamo nelle nostre canoe arrivavamo nei piccoli canali e poi il flusso della corrente dell'acqua ci portava velocemente giù con il fiume noi utilizzavamo solamente i remi per mantenere la direzione vi immaginate una situazione del genere? adesso ben fatta questo cambiate la direzione invertiamo le canoe e proviamo ad andare contro corrente adesso dovremo lavorare duramente tra 100 o meno circa saremo stanchissimi e non potremo più continuare nella vita dovete voler andare con il flusso con la corrente dovete voler fare quello che funziona non contro corrente io ho visto tante persone nella vita che vanno contro corrente noi vogliamo andare con la corrente quindi nella nostra attività la corrente o il flusso va dall'appeggiamento alle persone ai prodotti diciamo APP questo è il nostro flusso la nostra corrente nella nostra attività dopo ve lo spiego bene un venditore la corrente del venditore il flusso del venditore perché molte persone ci confondono con i venditori noi non siamo venditori noi siamo persone d'appare noi costruiamo attività intorno al mondo volete essere dei venditori vendete immobiliare entrate in Avon non è quello che facciamo noi il flusso o la corrente del venditore è il prodotto persone e poi l'atteggiamento è il diverso PPA vi voglio dare un'illustrazione a febbraio ero nelle Filippine un uomo mi ha chiesto di parlare con me era entrato in attività prima e ha voluto ricominciare di nuovo e gli ho chiesto perché mi ha detto Pete finalmente ho capito la corrente il flusso dell'attività e ha detto questo sono stato un venditore per 15 anni io vendo grandi attrezzature e si focalizzava sul prodotto e lo vendeva alle persone le persone delle aziende e se vendeva lui guadagnava tanto e quindi andava a casa contento se le festeggiava con la moglie andavano magari a fare una bella cena e avevano un bel atteggiamento e poi mi ha detto sono 15 anni che faccio questo e comincio a essere stanco e sono diventato annoiato e mi sono reso conto per continuare a guadagnare soldi e mantenere questo stile di vita che lo dovrò rifare e rifare e rifare e rifare e rifare e io non voglio farlo questo io adesso apprezzo la tua attività perché possiamo costruire l'attività in qualche anno e a fare l'atteggiamento persone e prodotti e questo vi permetterà di avere la sede di vita che vi ha fatto vedere le foto qualche anno di lavoro duro e intelligente in questa attività e potete sviluppare dei redditi continuativi e ancora può essere ereditato dai vostri figli quando aspetteva di vendere lui non aveva più soldi e quindi mi ha detto io sono pronto a cominciare quindi il nostro flusso e la nostra corrente atteggiamento qual è l'atteggiamento riguardo all'attività? ci state giocando un po'? a vedere se funziona proviamo un pochettino qui non domani domani la televisione c'è il mio show preferito tra un paio di giorni ci riproviamo un pochettino e vediamo se cresce un po' no, non succederà non succederà c'è bisogno di focalizzarsi bisogna essere seri qualche settimana fa nel New Jersey un mio amico che è un cliente ed è anche un avvocato mi ha detto Pete tu sai che io conosco tante persone e io ho scoperto il segreto del successo e gli ho detto per favore dimmelo e lui ha detto è focalizzarsi focalizzazione ho visto persone avere successo nella vita e non importa l'istruzione e non importa l'esperienza lavorativa o l'intelligenza dipende dalla focalizzazione e ha ragione se vi focalizzate in questa attività sul flusso corretto questa attività può crescere velocemente ed ecco il mio atteggiamento io sono un uomo da fare io lavoro con una squadra potente di persone intorno al mondo l'avete visto le foto in tutto il mondo e lavoriamo con un sistema collaudato passo dopo passo che permette di far arrivare alle persone quello che vogliono ottenere e tutto questo certamente è vero questo è il mio atteggiamento noi abbiamo una squadra potente Gianni e Maria Stefano e Sabrina Tony che viene da Londra Gabi e la sua squadra che vengono da L'Ishuara e anche un'altra persona da dietro che è venuta da Mias e poi anche questi altri ragazzi che sono venuti dal nord qui Giacomo Damiano Michele le persone sono serie per fare questa attività certamente siamo una squadra potente molte ricerche sono state fatte riguardo alle attività e questa ricerca a scoprire che il 74% delle persone che lavorano al mondo persone che hanno un lavoro il 74% di questi vogliono la loro attività improprio perché non ce l'hanno due ragioni principali uno non hanno il capitale necessario due non hanno la conoscenza guardate la vostra attività noi abbiamo rimosso il problema del capitale è come comprare un buon paio di scarpe per entrare in anzitudine se state portando delle scarpe allora siete già qualificati per poter arrivare avete già capitato è necessario e secondo tutte le persone che entrano con noi e entra a far parte di una grande squadra potente e quando lavoriamo insieme per ottenere i nostri obiettivi e noi lavoriamo con un sistema collaudato passo dopo passo quando parlate alle persone specialmente con le persone che sono entrate in attività tempo a dietro o magari attività simile alla nostra o magari anche delle persone che sono nella vostra attività e non sono attive mostrategli questo flusso e se abbiamo scoperto che tante persone stanno entrando o si spostano da altre e altre attività per venire nella nostra perché capiscono che noi non siamo venditori niente di sbagliato nell'essere venditore ma noi siamo persone d'affari noi costruiamo attività intorno al mondo varie persone in questa stanza già hanno l'attività in altre nazioni includendo il Messico Stati Uniti India e altre nazioni in Europa quando entrano nell'attività inizialmente non avevamo capito il potere della squadra noi lavoriamo insieme in tutto il mondo capire il flusso la corrente bisogna capire che cosa siamo veramente la cosa successiva di cui voglio parlare è mostrare il piano questo è un incontro leader non stiamo parlando di avviare nuove persone eccetera mi darò delle idee riguarda questo successivamente ma adesso voglio parlare di su come mostrare il piano c'è un modo di dire nell'attività mostratelo in grande mantenetelo semplice quando mostrare l'attività accertatevi di spiegare alle persone il potenziale pieno dell'attività sì, le persone possono entrare e arrotondare qualche soldo ma se vi do una scelta vuoi guadagnare e vuoi arrotondare o puoi guadagnare tanti soldi e poterti fare tanti viaggi come ti ho fatto vedere quale scegli? puoi fare quello che vuoi è la tua la scelta e non hai un capo che ti dice no, puoi fare solo questo tu sei il capo tu decidi ciò che vuoi fare e noi abbiamo le persone senza istruzione persone con la laurea professionisti camionisti insegnanti e commercialisti ingegneri tutti sono la nostra squadra non importa dove siete stati ciò che importa è dove volete andare quindi decidete voi ma vedetele in grande e presentatela in grande adesso noi siamo in un mondo di tecnologia le informazioni si muovono velocemente in questi giorni io mi ricordo quando ero più giovane prima che magari tanti di voi foste nati mi ricordi mi ricordi e mio zio aveva varie enciclopedie doveva aspettare la domenica quando andavamo a trovarlo per guardare le enciclopedie e vedere le informazioni di cui avevo bisogno l'altro giorno ero con cinque miei amici e stavamo pensando a una persona nello sport ma non ci ricordavamo il suo nome sapete cosa è successo? sei persone hanno preso il cellulare e in cinque secondi tutte e sei avevano risposta questo è il mondo del giorno d'oggi l'informazione che si muove velocemente se la ralentate voi perderete le persone c'è una volta in passato facevamo il piano in ora a volte le persone due ore ci mettevano a fare il piano oggi agli open il piano si viene fatto in mezz'ora, 40 minuti al massimo ma sul piano uno a uno stiamo facendo il piano in cinque minuti quindi prendete bene appunti perché vi farò vedere il piano in cinque minuti e probabilmente state pensando ma come è possibile mostrare quest'attività in cinque minuti? e io ve lo faccio vedere ma prima di cominciare vi voglio dire questo le persone intorno al mondo stanno entrando grazie al piano in cinque minuti vi voglio dare un esempio il vecchio piano ti chiamo al telefono prendo un appuntamento ok, giovedì ci vediamo vi faccio vedere la nostra città giovedì mi chiami scusa Peter devo lavorare fino a tardi stasera non riesco ok, ci riorganizziamo per sabato sabato mi chiama oh, mi sono dimenticato è il compleanno della cugina di mia moglie non riesco a venire facciamo che è lunedì un'altra telefonata lunedì so che sta arrivando non mi sento bene stasera devo proprio cancellare e si va avanti così qualche volta e ci vuole una settimana e finalmente riusciamo a far mostrare il piano non sempre ma spesso sì e poi dobbiamo fissare il dare seguito ok, domani abbiamo il dare seguito telefonata un'altra settimana va avanti, avanti, avanti e abbiamo avuto un grandissimo successo in questo modo degli anni perché siamo persistenti abbiamo il grande sogno e lo vogliamo ma adesso con il piano in 5 minuti e seguitemi bene io parlo con Gianni prima di tutto c'è bisogno di capire che abbiamo tre cerche di influenza la cerche interna chiamata IO queste sono le persone che voi conoscete bene i vostri amici intimi tua sorella tuo fratello le persone che conosci molto bene ognuno di noi ha dalle 5 alle 15 persone così e poi abbiamo la AO questa è la cerchia delle conoscenze persone che conoscete ma in maniera più casuale meno intima magari qualcuno che conoscete dal lavoro qualcuno nel vicinato ci sono tante persone così in questa situazione abbiamo dalle 100 alle 200 persone che abbiamo conosciuto nella vita ma non siamo intimamente legati ma se parliamo con loro loro sanno chi siamo noi l'ultima volta che ho controllato era 8 miliardi di persone quindi quando cominciate la vostra attività cominciate nella cerchia esterna andiamo in una strada di Roma appollata ehi tu vuoi fare AMOE? signora vuoi fare AMOE? signora vuoi fare AMOE? signora vuoi fare AMOE? questa è la cerchia esterna sto esagerando per fare il punto quando lavoriamo con la cerchia interna ancora una volta vi do un esempio con Gianni Gianni è un mio amico sì, giochiamo a tennis insieme ci divertiamo insieme ci conosciamo da tanti anni lo chiamo al telefono Gianni, stasera sei a casa? sì, allora vengo a casa tua e ti devo far vedere una cosa che cosa dirà? lui? ok e le cose che chiaramente dice sempre vado lì, ti mostro il piano il piano è 5 minuti e un altro esempio quando ho cominciato l'attività la prima telefonata che ho fatto ha fatto al mio mio amico ho detto Bill stai a casa stasera? e lui mi ha detto sì vengo a casa tua alle 7 e lui mi ha detto sì sono andato lì e lo ha scritto giorno numero 2 ho chiamato mio cugino Art gli ho detto Art sei a casa stasera? e lui mi ha detto sì che succede? ti lo dico quando arrivo a casa tua ok sono andato e lo ha scritto 10 giorni consecutivi ho sponsorizzato 9 su 10 questa era la mia cerchia interna e oggi è purtroppo ho la professione cominciano dalla cerchia delle conoscenze ci vuole più tecnica e invece se lavorate con la cerchia interna e cominciate con la cerchia interna lavorate velocemente vi voglio fare un esempio per renderla più chiara nella cerchia interna il rapporto di sponsorizzazione è da 2 su 3 su 4 o 2 su 3 su 4 ed è quello che succede con le persone che stanno facendo il piano in 5 minuti il rapporto di sponsorizzazione nella cerchia interna è 3-4 su 10 mentre invece nella cerchia interna è di 1 su 10 su 20 capite cosa sto dicendo? otterrete dei più grandi risultati con la cerchia interna e aggiungiamo questo a questa storia adesso parlo con Stefano anche lui è nella mia cerchia interna Stefano c'hai 5 minuti? e ti voglio far vedere una cosa proprio adesso 5 minuti che mi dirà? no? Stefano c'hai un'ora e mezza? devi tornare a casa da Sabrina c'è la cena che sta aspettando o i figli che ti stanno aspettando Sara che sta aspettando 5 minuti lo posso fare in qualsiasi luogo al lavoro io lo facevo prima di cominciare a lavorare quando ancora avevo un lavoro perché arrivavamo al lavoro 10-15 minuti prima andavo da un amico guarda ho bisogno di 5 minuti del tuo tempo perché Peter? ti voglio far vedere un modo per guadagnare tanti soldi 5 minuti? ok ho bisogno di un'ora e mezza Peter guarda da 12 minuti dobbiamo cominciare a lavorare a pranzo 5 minuti 5 minuti dopo il lavoro 5 minuti e le persone stanno facendo il piano in 5 minuti ovunque io ho foto di persone che fanno il piano in 5 minuti su un pulmon su un aereo e sponsoritano le persone tornando indietro da Bangkok nelle varie nazioni ci sono stati vari piani in 5 minuti e le persone sono entrate funziona avete preso l'idea è veloce è il modo di oggi le persone vogliono informazioni e la tecnologia globale le informazioni si muovono velocemente specialmente con i giovani dai 35 in giù non hanno la pazienza per un'ora mostratelo in 5 minuti e la lampadina si accenderà la cerchia interna dopo un po' quando avete finito con la cerchia interna voi personalmente lavorerete sulla cerchia interna ma adesso ma adesso avete l'esperienza avete ascoltato i cd siete stati agli incontri avete letto qualche libro e siete già più preparati per le domande che vi faranno ma cominciate dalla cerchia interna molti di voi hanno ancora delle persone della lista della cerchia interna ma la maggior parte di voi sta lavorando sulla cerchia delle conoscenze quando entrerà la persona successiva non importa come entra dalla cerchia esterna dalla cerchia interna dalla cerchia delle conoscenze ecco voi sponsorizzo una persona nuova quando sponsorizzo qualcuno di nuovo la mostro in grande l'attività nel piano in 5 minuti e gli do quattro scelte adesso vi faccio vedere un esempio tra qualche minuto ma intanto vi spiego cosa uno, potete guadagnare qualche soldo in più numero due potete guadagnare un reddito da platinum e do anche l'idea proprio dei soldi effettivi che si possono guadagnare come platinum fondatori e gli mostro anche i viaggi gratis le foto dei viaggi gratis e numero tre potete guadagnare un reddito da smeraldo e numero quattro un reddito da diamante e ancora una volta faccio vedere proprio il reddito effettivo che si può guadagnare quale ti interessa di più? sapete cosa dicono la maggior parte delle persone? davvero posso guadagnare quella quantità di soldi? e io dico sì, certo, è la tua attività la scelta è la tua e la maggior parte delle persone scelgono l'opzione due, tre o quattro se selezionano uno gli fate vedere i prodotti fate una dimostrazione artistry lavorate con altri prodotti gli fate vedere come si guadagnare ma la maggior parte delle persone sceglieranno due, tre o quattro se la mostrata in grande e quindi io ho la persona nuova in attività e io richiederò quattro cose uno io voglio che tu sia un giocatore di squadra tu farai parte di una squadra potente al mondo che lavora con un sistema collaudato passo dopo passo e che può portare a tutte le persone ad ottenere quel che vogliono dovete essere parte della squadra non ti può isolare se fanno delle obiezioni significa Peter che devo andare ogni settimana ad un incontro? e io dico sì ma capisci questo io sto parlando di qualche ora che cosa stai facendo adesso per guadagnare soldi? tu vai ad un incontro tutti i giorni l'incontro della tua azienda l'azienda di cui lavori e quante ore ci aspettai? 8 o 10? 5 o 6 giorni a settimana? 40 o 50 ore a settimana? e stai costruendo il sogno di qualcun altro? e non sei disposto a impiegarci due ore per costruire il tuo sogno? allora mettiamolo in prospettiva la seconda cosa che vi chiedo è che tutti si coinvolgono con i prodotti 3 che ti colleghi al sistema e questo significa incontri, cd e libri e numero 4 io voglio cominciare con la lista della tua cerchia interna qualcuno di questi 4 punti ti crea qualche problema? se dicono sì la mia risposta è forse è il caso che ci ripensi un attimo perché questo è quello che ci vuole per guadagnare i soldi che tu vorresti guadagnare se questo non sei disposto a farlo come ti aspetti di guadagnare tanti soldi? magari io direi di tornare all'opzione numero 1 di arrotondare un pochettino lo stipendio e io sono serio quando dico questo io non spiegherò il mio tempo con una persona che non farà queste cose non è disposta a fare questo perché questo? perché comunque non funzionerà ci sono delle persone che sono lì in incubazione che vengono agli incontri che ascoltano i cd che leggono i libri e tutto ad un tratto e gli arriva gli scocca la scintita e noi siamo contenti di lavorare con loro ma io voglio questi 4 punti per costruire adesso quindi voglio parlare con la vostra cerchia interna e dico Stefano chi ti piacerebbe avere nella tua attività? a chi starei pensando per primo? perché la maggior parte delle persone già ci pensano e magari pensano ah si mia sorella sarebbe brava ah si il mio amico Gianni sarebbe bravo per questa attività e Stefano dice il mio amico Gianni chiamalo subito Gianni Dici che andiamo a casa sua lo chiama Gianni veniamo a casa tua Gianni che dice? e lui magari può dire al limite perché Gianni guarda ho trovato un modo di guadagnare più soldi ci vediamo tra i 20 minuti andiamo a casa sua gli mostriamo il piano e lui è già la sua prima persona le persone stanno entrando stanno crescendo velocemente in questo modo in tutto il mondo le persone che usano questo metodo quindi entra adesso Gianni indovinate un po' cosa faccio con Gianni Gianni chi ti piacerebbe come prima persona nella tua squadra? ah mio fratello Franco chiamiamolo e chiedi di venire a casa tua è suo fratello e lui verrà se lui non può venire noi andiamo da lui e adesso abbiamo Franco indovinate che cosa faccio con Franco Franco che ti piacerebbe come prima persona nella tua attività? e per esempio lui conosce Federico capite cosa intendo? potete crescere velocemente in questo modo tutti quanti vengono agli incontri tutti quanti prendono i cd ascoltano i cd e così otterrete un momentum e una squadra potente e adesso vi faccio vedere il piano in 5 minuti immaginate che vi stiamo immaginando come funziona questa storia chi è che ha visto il piano in 5 minuti? ok ecco che arriva ci sono 3 parti per vedere il piano in 5 minuti numero 1 ho bisogno di collegarmi significa che ho bisogno di collegarmi a livello di relazione con la persona numero 2 devo mostrare il piano 5 minuti numero 3 numero 3 chiudo per la sorpresa di tante persone quando fanno il piano in 5 minuti le persone diranno questo è tutto lì? è tutto quello che bisogna fare? lo posso fare lo posso fare entro lo porto all'incontro vedono il potere della squadra ma stanno pensando nella loro mente non riuscirò mai a essere come Stefano o con Gianni davanti a tutte quelle persone che presentano questa attività non riesco neanche a farla a mia moglie non ci credono che sia possibile mettere invece il piano in 5 minuti? è semplice possiamo farlo subito vi posso dare tanti esempi non ho il tempo ma adesso facciamo il piano in 5 minuti mi collego Stefano hai pensato di avviare una tua attività? per guadagnare più soldi? ti piacerebbe no? 5 minuti ti voglio far vedere una cosa abbiamo noi ogni tanto io comincio con i 4 quadranti ma solo con una persona che ha un'esperienza nel mondo degli affari o nel management che capiscono come si guadagnano i soldi per le persone ordinarie non utilizzerò i 4 quadranti perché sono al lavoro hanno appunto una mentalità da dipendente quindi risparmierò tempo e non le faccio vedere i 4 quadranti ok? so here we are Stefano eccoci qui Stefano ecco la nostra attività abbiamo un produttore che fa 450 prodotti che produce 450 prodotti esclusivi per noi li vendiamo su internet e ci sono dei cataloghi delle brochure in aggiunta a questi prodotti abbiamo dei collegamenti con altre aziende per esempio siamo collegati all'excess e l'attività con una bibbia energetica va più veloce al mondo e poi potete parlare di altri velocemente in Italia c'è la pasta e abbiamo queste alleanze strategiche beh Stefano abbiamo questo perché perché c'è un sistema di marketing potentissimo che vogliono lavorare con noi noi non siamo venditori noi siamo uomini d'affari vi voglio far vedere come funziona come funziona da questa parte qui abbiamo i consumatori che è la tipica nella tipica c'è la distribuzione solitamente funziona che si fa dal produttore va al grossista fino al dettagliante e il cliente va al dettagliante e acquistere quello che si gli serve noi abbiamo eliminato queste due posizioni tipicamente ne risparmiamo il 60% di quello che il produttore e invece il produttore ottiene il 40% quindi eliminando questi passaggi noi guadagneremo questo 60% e ci colleghiamo direttamente con il produttore su internet con cataloghi e brochure e appunto prendendo altri prodotti per i prodotti che ci servono per noi utilizziamo i prodotti e poi con la parola e bocca che il miglior modo è appunto il passaparola ci si interessano tante altre persone adesso vi voglio spiegare questo tipo di distribuzione sta crescendo veramente velocemente avete mai acquistato qualcosa su internet attraverso un catalogo? certo acquistando nei negozi sta diminuendo sempre di più siamo nell'attività giusta al momento giusto stiamo esplodendo e questo e noi avremo il margine del 60% noi spiegheremo alle persone che possono andare a fare gli acquisti in fabbrica e attraverso l'acquisto dei prodotti ci sarà il profitto l'azienda farà tutti i conti e darà i soldi a fabbrica più semplice di così non si può fare in attività degli affari e poi possiamo espandere attività ad altri incaricati vi voglio fare una domanda avete degli amici che vi piacerebbe avviare una propria attività? tutti quanti ce l'hanno beh sì immaginavo di sì infatti noi costruiremo squadre e lavoreremo con un sistema collaudato passo dopo passo che ti può permettere di ottenere dei grandi risultati e anche dei viaggi infatti la possibilità comincia con la possibilità di creare dei soldi extra e gli do l'opzione appunto del reddito Platino Speraldo Diamante qual è il reddito che ti interessa di più? Platino? ti piace l'idea del viaggio gratis no? continua a fare così con la testa chi è che non ama i viaggi gratis? se datemi alzate per la sala di mano certo tutti quanti amano i viaggi gratis ecco come bisogna cominciare numero uno essere un buon giocatore di squadra numero due prodotti numero due sistema quattro a chi stavi pensando come più personale di fare tra squadra? che ti piacerebbe avere come primo partner? chi abbiamo adesso? ecco il piano in cinque minuti probabilmente mi ci ha voluto più di cinque minuti perché sto spiegando a voi ma cinque minuti sette o otto al massimo e le persone entrano quindi quanti piani in cinque minuti si possono fare? abbiamo persone che fanno 4, 5, 6, 7 piani al giorno perché? perché perché capiscono il potere dell'attività capiscono che si raddoppierà velocemente capiscono che si fanno dei bonus extra di dati anche fino ad arrivare a 300.000 euro e oltre molti di voi eravano a weekend seminar io ho visto le foto Alessandro da Sanremo 50.000 euro e molti altri che magari guadagnano 15.000 euro quando è stata l'ultima volta che nel vostro lavoro vi hanno dato un bonus extra di 15.000 euro? grazie per il lavoro che hai fatto tutto l'anno apprezziamo quello che hai fatto ecco 15.000 euro no? in Romania in Romania funziona così in Inghilterra a Cremona non è anche negli Stati Uniti dopo un anno o due persone stanno ottenendo questi bonus quindi le persone stanno lavorando duramente e si stanno focalizzando specialmente adesso con il piano in 5 minuti perché non ci vuole così tanto tempo 5 minuti ne potete fare uno tutti i giorni potete farne 3 tutti i giorni quando ho lasciato il mio lavoro facevo 3 piani al giorno ogni piano era un'ora, un'ora e mezza e l'ho fatto per due anni e dopo quel periodo di tempo a 32 anni non ho più dovuto lavorare per tutto il resto della vita io lavoro perché amo questa attività sabato sentirete parlare di questo all'anniversario del dove altro potete fare un altro dei giorni? nelle attività tradizionali tipicamente ci vogliono 3 o 4 anni per cominciare a avere dei profitti e per cominciare c'è bisogno di farsi prestare dei soldi quindi per 3 o 4 anni si lavora su soldi prestati interessante no? non c'è bisogno di farsi prestare dei soldi per cominciare questa attività è come fare un buon paio di scarpe infatti veramente in Italia alcuni tipi di scarpe addirittura di più si, piano 5 minuti ovviamente agli open si fai il piano più lungo 30 minuti, 40 minuti magari a un piano di gruppo oppure poi c'è anche l'approccio attraverso i prodotti nell'attività questo sono io, questo sei tu e lavori con la ricerca interna e parlando di entrare in attività, guadagnare soldi e viaggiare quindi stiamo lavorando in questo modo ma potremmo anche lavorare con i prodotti e il modo più popolare, più tipico è lavorare attraverso l'artistry ci sono delle persone qui dalla Romania che stanno facendo un lavoro incredibile con questa cosa potete farlo con una vostra amica, una donna fate una presentazione artisti con sua sorella, sua madre, sua amica e quando finite questa presentazione e vendete i prodotti adesso fate il piano in 5 minuti e metà delle persone che vengono a queste presentazioni entrano e ho visto 100 valori punti 300 valori punti e c'era un l'altro giorno che ne ha fatto oltre 600 valori punti e sono entrate 3 persone quando entrano ovviamente potete fare un altro piano artisti una presentazione artisti ma c'è comunque sempre bisogno anche di contattarle con l'administra della cerchia interna con persone che volete appunto fare entrate nella vostra squadra e mostrate il piano in 5 minuti dopo un artistry o l'XS magari o body key o qualsiasi tipo di prodotto vi piaccia le spring mostratele in grande questa è una parte della nostra attività è più grande di tutto ciò ma questo è un modo veloce per guadagnare soldi e se siete interessati nel reddito, platino, sperando, diamante abbiamo un sistema collaudato passo dopo passo che potete seguire e ottenere ciò che volete e quindi con quelli particolarmente quelle persone della Romania quando si mostrate questo in questo modo e cominciate a trovare altre persone a parte le persone che fanno l'artistry quello vi permetterà di costruire l'attività quindi si lavora su due fronti con la lista della cerchia interna e con le donne magari utilizzando altri per avere il volume e il guadagno e anche per ottenere persone le squadre ok? down down ok? ok? ok